Torna la tombola a Città di Castello, un appuntamento importante. Già qualche settimana fa ne parlavamo con il Presidente degli Amici del Cuore, perché è un appuntamento che quest'anno avrà un qualcosa che fa tornare con la mente al passato. Presidente, si parte con la vendita delle cartelle? Quella cosa più importante è la vendita delle cartelle. Poi per il resto, per quanto riguarda tutta l'organizzazione, aspettiamo tutti i cittadini e avranno delle sorprese in piazza Garibaldi, dove siamo ritornati dopo tanto tempo e avremo, come dicevo, delle sorprese. L'appuntamento è per le ore 17, per la presentazione della tombola. L'estrazione avverrà circa alle 18.30. Dino Marinelli, la parola perché abbiamo ritrovato qualche bel reperto. Dicevamo che è una tradizione antica, la tombola città di Castello. Si può dire che oggi è ritornata quella di quest'anno ai tempi di una volta, quando la tombola si estraeva a piazza Garibaldi, che allora si chiamava prima piazza della stazione o piazza Marsala. Poi Garibaldi era a due passi, allora ci abbiamo messo Garibaldi. E lei in quella piazza per anni e anni, dall'inizio del Novecento, anzi alla fine dell'Ottocento ha incominciato. E questa tombola che i giornali all'inizio del secolo scorso ne parlavano prima e dopo, come un fatto eclatante della città, perché raccontano che come minimo c'erano 3.000 persone in quella piazza. Tanto che abbiamo ritrovato un documento. Dunque si parla della tombola del 1905. Il cronista racconta di queste 3.000 persone, di ogni ceto sociale che la piazza era piena, grande festa e poi tra l'altro dice abbiamo ammirato splendide vesti e discrete spalle nude, angelici visi di troppo di bonde fanciulle e sguardi severe di madri troppo punitive. Poi c'è ancora, aggiunge, un grazie ai padroni della piazza per averla concessa. Perché la piazza non era del comune di Città di Castello, per la metà circa era degli eredi della famiglia Vitelli, che lì hanno il palazzo, il palazzo Vitelli Ascini.